Ciao amici, video di recensione al volo di questo Chuck, pagato 15 euro, io inizialmente ero abbastanza indeciso perché mi sembrava troppo poco per un oggetto da utilizzare per il lavoro, spende 15 euro, però alla fine mi sono lasciato convincere dalle recensioni positive, erano 78, non tantissime, 4 stelle e mezzo, beh 4 stelle e mezzo è tanto, andiamo a vedere 15 euro, questo è il Chuck innanzitutto, quello che mi serve a me è il Chuck. Quindi non vi so dire se qui ci si colora bene, molti tanto so che non colorano direttamente sul Chuck, ma mettono direttamente dei postic, quindi per mettere dei postic che ho scritto la scena, la ripetizione e qualche altro dato va benissimo nero e va benissimo così. Alcuni Chuck qui hanno il colore per avere riferimento di qual è il bianco e di quali sono gli altri colori, questo è semplicemente vecchio stile bianco e nero, ma diciamoci la verità, la maggior parte dell'utilizzo del Chuck non è per chi fa film, cioè di questi che vendono, non li venderanno pochissimi a chi fa film, ma per chi gli piace o esteticamente così vecchio stile o per il Chuck, il Chuck in sé funziona bene, quindi non gli si può dire niente. È un rumore secco che per sincronizzare i vari rumori delle telecamere va benissimo già così, nero va bene, io avrei preferito qua delle chiavi a brucola, poterlo stringere a brucola più o meno magari man mano che con gli anni si va ad allentare. È vero pure che poi anche se è lento il rumore dello sbatti lo fa lo stesso, per quello che è l'utilizzo mio, che è professionale nel senso che ci faccio i video, però non è professionale nel senso che ho bisogno di chissà quale caratteristica, tutto sommato io direi che è un acquisto che può andare. Mi manca qua una cosa per appenderlo, perché bene o male anche un buchettino qui e metterci un cordino per attaccarlo da qualche parte l'avrei gradito, magari lo faccio io adesso un buco col tramano, perché tanto a me non è che lo devo appoggiare così ma con proprio spazio, invece se l'appendo, ecco, mi sembra strano che quando l'hanno prodotto non hanno pensato a creare un piccolo occhiello per il pendolo. Quindi le mie critiche sono fondamentalmente nel fatto che non ci siano le brucole, poi magari qualcuno mi dirà che è meglio pure così, ed è il fatto che non ci sia niente da appendere. La tavola di per sé è una tavoletta che ci sta, ci sta, è proprio una costruzione, vedete così, fatta in questo modo, una tavoletta proprio che ricorda, penso, la vera costruzione. Ce l'avevo uno in passato che mi è durato tanti anni, ce l'ho quasi a terra, non l'ho già buttato e era con una tavola in plastica e mi avevo pagato molto molto di più. Io credo che se è arrivato sin dal primo giorno, anche qua, vedete scorticato, anche se mi è arrivato direttamente, non proprio al top, però devo dire, l'ho pagato poco, perché 14 euro compresa spedizione, va bene, per me va bene, poi a me mi serve per fare questa cosa qua. Il Chuck così sincronizza, posso pure battere le mani, potrebbe sembrare la stessa cosa, però il Chuck ha un punto più netto, più netto, quando sincronizzi, si sincronizza meglio, e poi quando il computer lo deve riconoscere da solo, se il computer riconosci da solo e fai multicamere, magari stai usando tre o quattro telecamere, se tu parli, Harry li riconosce, ma se tu usi il Chuck, io faccio così, io faccio il Chuck e poi faccio lì, oh, sbaglierò, però insomma, faccio, uso il Chuck, però faccio rumore, le telecamere me le sincronizza, sempre me le mette, sempre bene me le mette, invece se faccio, batto le mani o altro, a volte non riconosce l'inizio contemporaneo delle varie telecamere, ci vuole proprio un bel botto, le faccio così, uno, poi quando c'è un'ottante telecamere, puoi essere sicuro, faccio uno, e batto proprio, e allora, magari è nudi, basterebbe uno solo, vabbè, ciao ciao, vi metto il link in descrizione del Chuck da 15 euro.